Cari appassionati esploratori e fungaioli o aspiranti tali, non andremo qua a Volterra e non andremo là a Monte Catini-Val di Cecina. Anche perché ci siamo già stati, se volete cercate video su queste due splendide località e sui relativi boschi. Ma allora, dove andremo? Forse ora le immagini vi suggeriscono qualche indizio. E andiamo proprio sulla ponte che passa dalla confluenza fra il fiume Trossa, che io ho conosciuto in una incredibile avventura fungaiola, lo Guadai. C'erava molto più acqua di così, però si vede. E il fiume Cecina, eccolo qua, certamente più ricco d'acqua, che prende acqua da più montagne, evidentemente anche più lungo. E il fiume Trossa, dove trovai una incredibile avventura fungaiola, vi ricordate? Leccini in grande quantità e anche l'ardaioli. Andatevele a vedere se la siete persa. Proprio dopo il guado del fiume inizio a trovare incredibili fungaie, evidentemente dove nessuno poteva arrivare tranne me. Il percorso che ho fatto in maniera abbastanza approssimativa vi dovrebbe portare sul crinale di quella montagna là, più o meno. Poi andremo anche a vedere, se non sbaglio, un paese interessante da quelle parti. E quindi giriamo in direzione Querceto-Micciano. Sperando ci sia la strada, perché io ho messo un sentiero sterrato, che potrebbe anche essere un sentiero strettissimo, sassoso, impraticabile, oppure comodo. Certo non amo le strade asfaltate e presto ne uscirò. Queste zone fungaiole sono estremamente rinomate. Zona di Micciano, zona della Valle della Trossa, Libiano se non sbaglio, altri paesi che non mi ricordo, ma che devo ancora approfondire e visitare. E boschi incredibilmente ampi, altitudini variabili, da 200 a 600 metri. Ci può essere di tutto e comunque questa zona va esplorata, prima o poi va esplorata e è quello che stiamo facendo. Ed ecco, vedete, questo video che dirà il mio giro, quindi vado prima da Querceto e poi torno a Micciano. In teoria, in teoria, poi ci sta che mi perdo, devo tornare indietro. Il giro è molto lungo, quindi non sarà facile a fare perché voglio andare molto in là. Giro di decine e decine di chilometri, non vi so dire quanti di preciso, perché è tutto così un po' a caso. Il bello è questo, l'avventura a caso. Riguardo al discorso fungaiolo che per me è sempre presente, riguardateci una cosa, che fanno fede sempre i cartelli. Quindi, qui che c'è scritto, non è difficile, c'è scritto di vieto raccolta funghi? No, con il permesso regionale puoi cogliere. A meno che non sia un fondo chiuso e se è fondo chiuso è scritto fondo chiuso di vieto di accesso. Quindi è anche recintato di solito e c'è spilo spinato. Quindi queste un po' sono le norme normali, ovvie. Questo è un pero intanto, guardate. Chissà se tutto il pero ci nascono i prugnoli. Andiamo un'occhiatina. Troppo per noi il prugnolo è un fungo raro. Ancora più raro il discorso di trovare una quercia e dire ci sono sotto i porcini. Voi sapete benissimo che non sotto tutte le querce ci sono i porcini. Per i prugnoli è ancora più rara la situazione, quindi è difficile. Ma se uno gira tanto ci sta che qualcosa vede ora in questo periodo, no? È ripiovuto. Non ora ma tra una decina di giorni secondo me ci può essere una seconda mini buttata di prugnoli. Una decina di giorni, quindi occhi aperti signori. Guardate qui, cambio azienda. In questa azienda sono molto molto più specifici e è spiegato che oltre alla strada principale dove si può passare è vietato, guardate addirittura natanti, è pazzesco. Moto, piscillette, cavalli e pedoni. Divente raccolta, fiori, funghi, lumali. Ce l'ho che duri poco questa tenuta altrimenti mi tocca rimanere sulla strada per chilometri. Andiamo avanti, vediamo un po' che c'è oltre quel ceto. Perché qui non c'è molto da poter fare evidentemente. Ma noi facciamo un giro molto molto ampio che supera ogni possibile piccola tenuta. Io avrei scritto qualunque cosa tu possa immaginare è vietata. Non provarci, non credere che noi non abbiamo immaginato qualcosa e tu possa farlo perché non puoi farla. Bellissimo. Ma pensate? Piccoli segnali dal sottobosco, vedete? Ho un consegnale. Sotto la leceta, querceta, querceta. Devo fare una riflessione perché voi che avete terreni come me, ecco non datele via perché vorrebbero finire in mano a dei grandi gruppi multinazionali che poi faranno la stessa cosa. Ti danno vietato andare a cercare rumache, a camminare, a entrare, a tutto. Questa cosa evitiamola. Fate come me che ho un terreno aperto a tutti. C'è la fonte equalista dall'acqua a tutti. Questo è secondo me un comportamento, e no, quello di escludere, precludere. Già ho dei dubbi sul demanio di Barga, che comunque è qualcosa che è in mano ai cittadini di una comunità, quindi può aver senso escludere gli altri. Non lo so, però già è un gruppo di cittadini. Ma se diventa tutto in capo a treccato grandi proprietari terrieri mondiali, io vi consiglio di essere preoccupati su questa futura possibilità e di evitare di dargli anche la vostra terra. Ma lontano dalle polemiche, visitiamo il borgo di Querceto. E vedete qua si va a Cecina, Sassac e Cecina, quindi si scende e si risale e si va a Cecina. C'è in mezzo una montagna, come sapete, quella delle colline pisane. E qua Querceto. E anche un monte vaso, però rimane su una parte. E Querceto è qua. Attenzione, vedete? Giocano ancora per strada a Querceto. Che effettivamente sembra dalla mappa un borgo medievale. Vediamo un po' cosa ci riserva questo borgo. Suggestioni da Querceto non commento, lasciamo scorrere. Grazie a tutti. Visitato il suggestivo borgo di Querceto avevo il dubbio che non ci fosse nessuna strada percorribile, che era tutto vietato, ma c'è una strada. Per fortuna la civiltà è ancora presente e nel rispetto del diritto di passo, queste cose fondamentali, che evidentemente, guardate, è permesso qua. Quello è anche l'indice di un sentiero. Quindi strana tracciata, sentiero, e vi permettono di fare questo giro. Non di più, però intanto già è un risultato. Andiamo allora. Visto che ci fanno andare e non tornare indietro. Perché quando si prepara un giro alla ceca, alla sceca come dico io, e poi non si sa mai. Il luogo è bellissimo, eh? Il luogo è bellissimo, avete visto? Scorci meravigliosi, ma troppe limitazioni per i miei gusti. Andiamo avanti. Vediamo che cosa ci riserva. Per fortuna, vedete, qui siamo in una zona demaniale. C'è solo il divieto di caccia, cosa di protezione. Vedete, quindi siamo in una zona dove, evidentemente, siamo di nuovo un pochettino più portatori di diritti, eh? Non solo quello di passo minimo, ma anche un'occasina di più. Andiamo avanti allora. Voi non temete che un giorno queste aree demaniali, ancora preziosi, che ci permettono di andare praticamente a funghi, finiscano in mano anche quelle di una privatizzazione. Vengano in mano di poche mani al mondo, di grandi petali terrieri che si comprano tutto. Anche su questo penso dovremo riflettere a lungo. Ora si dà un'occhiata anche a funghi, eh? E si guarda anche che territorio abbiamo. Cioè questo bellissimo, splendido. Territorio misto, dove c'è querci, pini, lecci, altitudine varia. La montagna è lassù, la vedete? Come dice, è tanto a salire ancora. Avanti. Ma guardate la scelta di oggi, essere venuto qua, che panorama mi regala, eh? E non è una scelta, ricordatevi, è una decisione. Ho deciso di essere qua, fra opzioni infinite. Non ho scelto, ho deciso, è di più. E ora mi godo in questo panorama, ma vediamo anche se c'è qualche funghetto, eh? Oh, eh. Panorami incredibili, devo dire. Ho questo effetto di sole e nuvole, è bellissimo. Andiamo avanti, sperando di non beccare l'acqua, perché sono venuto qua principalmente perché non ci pioveva. Però voi sapete, è sempre la scelta di pità, eh? Il caso poi vi porta a scoprire qualcosa. Se siete persone che hanno voglia di esplorare, lasciatevi un po' guidare anche dal caso. Perché poi fate le scoperte, posti belli almeno. E poi magari anche qualche funghetto. Quindi questa è l'idea. Tanto visitare posti splendidi. Qui siamo ad essere in Sardegna. Mancano solo delle greggi, ma è probabile che le trovo, eh? Quindi, davvero, luogo meraviglioso. Luogo che ricorda la Sardegna, luogo estivamente mediterraneo, come vedete. Il mare non è lontano da qui, eh? C'è scena, avete visto, era una ventina di chilometri. E anche Bibbona. Andiamo avanti. Qui, bivio obbligato, vedete c'è un cancello. E qua mi manda sentiero 103 sempre. Vedete, in questa zona sono lecci sughere. Sughere. Sono più lecci che qua c'è le sughere, mi sembra, a vedere le foglie. Qua è stata già spogliata, vedete, poi ributta la corteccia. La linfa, per fortuna, scorre sotto, eh? Sotto il sughero, quindi non è un danno letale per la pianta, comunque. E si vede lo scalino, eh? Dove è stato tagliato. Secondo me qua ci può essere qualche occasione per i galletti, però magari mi sbaglio. Vediamo, vediamo. E ovviamente sempre occhi aperti verso le rosacee. Perché io al prugnolo, al sogno del prugnolo, non ci ho ancora annunciato. E sappiamo che ora spuntano in alto. E siamo a 500-400 metri d'altitudine. Arriveremo quasi a 600, quindi ci siamo, eh? Come altitudine per prugnoli tardivi. Come vedete ormai siamo sullo scollino. E la parte migliore è sempre quella di là, a mio parere, eh? Poi mi sbaglio. Sotto per la vegetazione, che è più complessa e completa. Vedete, guarda, più c'è spugliosa. Mancano un po' di rosacee. Saranno di qua di sicuro. Andiamo. Scolliniamo, scendiamo e vediamo. Siamo comunque ad un'altitudine considerevole. 481 metri. E vedete, siamo mai vicini alla riserva naturale di Monterufoli-Caselli. Quella dove volevo andare. Vediamo un po' se ci arrivo e cosa vedremo. Là. Là. Ok, non sarà l'Everest, ma abbiamo conquistato. Anche questa cima. Là, andiamo. Zone che dovrei conoscere. Non so se sono le zone boracifere. Perché vedete questi fumaglioli. Deve essere la zona di Larderello. Può darsi, eh? Comunque non siamo lontani. Siamo a Val di Cecina. Laggiù in fondo ci dovrebbe essere Torette Trossa. Di là, dietro. Forse molto dietro. Là c'è un paese. E forse finiremo da quelle parti. Oppure venivamo da là. Non lo so. Io so soltanto perché mi sto godendo. Questo straordinario paesaggio. E voi? Che ne pensate? È valsa la pena venire qua? È valsa la pena poter visualizzare Tante estinzioni. E forse con la foto di copertina metto quella là, eh? Perché sembra appesa là la bici. Guardate. Sembra appesa, eh? E invece questa sembra proprio una zona da prugnoli. C'è questa abitazione abbandonata, mezza franata. Ma ci sono tante rosace intorno. E soprattutto non credo troverò prugnoli dentro, ecco. Pieno di rovi, guardate che roba. Ma magari fuori dalla casa, sì. Ovviamente se vedete queste case pericolanti, stateci lontani, eh? E ho fatto appena appena uno zoom. Stateci lontani perché c'è poco da affidarsi. Qui prima o poi viene giù, eh? Sto però preparando un nuovo video che farò tra 3-4 mesi con tutti i ruderi che ho trovato nei miei giri, nei miei peregrinazioni. Perché molti amano l'idea del rudere, di rifare il rudere. Ovviamente questi sono ruderi che se uno poi cerca il catastale contatta l'eventuale proprietario, se non è lo Stato, perché potrebbe essere anche lo Stato, e prova, mentre qua c'è un fico. E ci sono delle rosace a quanto pare. Vedete? Per l'altro, d'intorno alle case, anche nella palestra di Cerbai, sapete? Io ho spesso trovato dei funghi interessanti, perché non ci guarda più nessuno. Abbandonato, tutto abbandonato, vedete? Non so se era qualcosa di comunale addirittura. Là c'è una trave, guardate, c'è una trave. C'è una trave, guardate. C'è ancora una trave. E comunque, ci sono dei problemi sui criteri antisismici, che vedete, non è tanto regolare. Chissà da che epoca appartiene questa costruzione. Comunque si vede che le finestre indeboliscono molto la struttura. Crepe qua, crepe là. Guardate? Proprio in concomitanza la finestra. Non è una costruzione fatta a regola d'arte, a dire la verità. Praticamente viene giù tutta questa, evidente. Ci sono dei problemini, leggerissimi problemini di stabilità. Poi ci sono dei mattoni messi in traversa, sembrano delle riparazioni posteriori. Curioso, guardate. Vabbè, andiamo alla zona fungaiola, invece. Ecco, questo è il terreno giusto. Perché sono venuto dai prugnoli, eh? Non dimentichiamo. Qua non ci sono divieti, non c'è nulla. Zona demaniale, quindi siamo nel terreno del... Del libero demanio, diciamo. Dominio o demanio. Come sempre si dice. Demanio, guardate. Questa è rosacee, eh? Non è che, come vi dicevo, non è che tutte le rosacee vi danno il prugnolo, eh? Purtroppo non tutte. Io sono venuto qua più caldo per fare una prima escursione, vedere. Là c'era bosco basso, tutto querce, sughere. E va bene per i porcini in una stagione tardiva, ecco. E va bene anche per ottobre-novembre, anche dicembre. Va bene anche per i lardaioli. Diciamo dicembre per i lardaioli. E anche per gli ultimi leccini, leccinellum lecinum lepidum, no? Mentre qua dominano le rosacee, quindi si può dare un'occhiatina a livello di rosacee e di prugnoli, se ci sono. Ma se non ci sono... Non credo che qualcuno venga a cercare qua. Però magari sì, capite? Certo, in altre zone dove sono stato da prugnoli c'era cercato chiarissimo. Qui è piovuto anche, l'altro è un po' bagnato, però. Qua finiscono le rosacee, vedete? Non sono più rosacee, iniziano lecci. C'è un po' di tagliato, bosco tagliato. E panorama. Andiamo di là, allora. E mi dicevano che anche i prati sono tipici per i prugnoli, eh? Quasi più nei prati che nelle radure, nelle boscaglie. I prati sono terreni ideali. Mentre qua vediamo pietre di particolare interesse. E andiamo a vedere qua. Qua c'era tipo una piccola cisterna. Una volta ci viva la gente, davvero. Poi purtroppo tutto viene abbandonato, tutto viene perduto. Andiamo a vedere se da quest'altra parte si riesce a entrare. Altrimenti andremo altrove. Non c'è traccia dei funghi. Ecco, entriamo qua. Purtroppo non c'è traccia. I prugnoli. Prunus, prunulus. Non solo prugne, ma anche rosacee di vario tipo. Questa sembra una rosa canina. Ma non lo so se è una rosa canina. Sembrerebbe. E insomma, sono tutte piante che vanno bene per il discorso del prugnolo. Il problema è che manca. Proprio il protagonista che si cercava. Ecco, peccato. Peccato andiamo avanti. Io non perdo le speranze. Andrò sempre più in alto per i prugnoli. E inizieranno tra poco i porcini in basso. Quello sì, sono il mio. Sui porcini in basso ho le funglie, capite? È molto meglio. Qui devo inventarmene, devo trovarle dove non esistono, dove non si trovano. Quindi questa è una zona interessante. Perché vicino alle case si sa che ci sono. Ottimi funglie, quasi sempre. Non so perché. Ovviamente il passaggio degli animali, delle persone, aiuta. E quindi, niente. Neanche qua. Andiamo avanti allora. Ed eccoci dove dovevo arrivare. In bici si può andare. Intanto ha letto un po' il cartello prima di voi. Enormi e utili. C'è scritto andare sul sito perché è scritto nel pannello dietro. Vedete, guardate. Accolta, speciali dettagli, spontanei, insomma, ai funghi. C'è scritto guardate dietro, vedi il retro del pannello e la guida al regolamento. Ora, il retro del pannello lo faccio vedere subito. Ecco il retro del pannello. Non c'è scritto niente. E guida al regolamento. C'è scritto il sito della comunità montana Val di Cecina. Ma non c'è linea. Quindi lo saprò dopo. Ora, non mi attendo a trovare granché. Però, quindi, posso andare in bici, certo. Però, ecco, se vedessi qualcosa, puoi trovare un punto dove c'è linea, guardare il sito della comunità montana e puoi valutare se c'è sufficiente, bastante, il famoso permesso regionale oppure se serve qualcos'altro. Qua ci sono altri cartelli. Andiamo a vedere, tanto perché ci siamo. Altri cartelli. Andiamo a cerci qualcosa qui di spiegato. Perché se non te lo dicono, come si fa? Ci vogliono cartelli. Non è che si può. Se a me c'è solo il diritto di caccia alla fine. Quando dicono, hai già raccomentato. Sì, hai regolamentato. La regge 2010, però, è quella che ho io. Quindi c'è il semplice bollettino da pagare. Ecco, quindi questo mi... Forse era questo il diario del pannello. Comunque, per farla breve. Allora, legge 58.010, quella regionale famosa, ecco, che mi dà il diritto di cercare con il permessino che costa 25 euro l'anno, vi ricordo, per i residenti in Toscana. E così. Diciamo, teoria si può. Ecco, altrimenti aveva scritto che non si poteva, è evidente. Hanno detto, eh, si rimanda a legge regionale. Comunque, alla fine, è una di quelle riserve dove c'è possibilità per fungaioli. Ecco, questo è molto buono, interessante. Quindi, va bene? Se qualcuno sa qualcosa di più, me lo dica nel video, tanto io non credo trovare il granché in questo video. Ma, nel dubbio, ditepelo voi, eh. E guardate cosa ho visto. Cos'è? Sembrerebbe che i funghi somigliano a un cervello, tipo la morchella. Ora io non voglio sciuparlo, però vedete? Avevo trovato uno molto più bello di questo. Ve lo faccio vedere. E credo sia, nel solito, che esce tipo da un uvetto e poi, vedete, è bucato dentro. Poi si apre poi come se fosse una specie di cervello, tipo si apre tutto. Eh, vi faccio vedere se è la stessa morchella oppure se è qualcos'altro. Anche io l'ho appena toccato, ma lo lascio lì, ovviamente. E qua c'è qualcosa di molto, molto, molto più interessante. Perché guardate, guardate, e quando io trovo un indizio poi entro, no, dentro. E ho trovato questo, indizia. Questo è più interessante. Vediamo un po'. Che magari non si è aperto, no, questo è un fungo. Vediamo se c'è le lamelle. Che sia un prugnolo. Sì, è un prugnolo, madara. Intanto c'è il gambo, quindi non è la morchella, quella morchella lì che sembra il cervello, non c'è un gambo. Questo qua andiamo sotto. Bisogna che trovi un modo di far vedere se c'è solitamente. L'annusiamo, dicono un profumo sardinale. Non voglio toglierlo, lo voglio solo annusare. Ma, il profumo è buono. Che cos'è secondo voi questo? Lo lascio a voi dire e poi al limite ci ritorno. Sono segnato la posizione. Guardate l'ingrandimento, sono entrato sotto. Che cos'è? Le lamelle ci sono. E se fosse la letale Amani Taverna? Cos'è questo fungo? Vi temerlo nei commenti. Fermo, ora iscriviti al mio canale Leremita su YouTube. Non ti costa niente. Stiamo provando a cambiare il mondo. Con l'equalismo, ma anche con le vostre idee. Perché l'equalismo comprende tutto. Tutto?